Il TAR di Catania ha sospeso la procedura per la valorizzazione sui fari e segnalamenti della Marina Militare per il cosiddetto Lotto-Sette, il faro di Capodorlando, e ha fissato la decisione di merito sulla procedura di gara per l'affidamento del faro Paladino per l'udienza del 18 novembre 2020. Così hanno deciso con propria ordinanza i giudici della terza sessione, accogliendo le richieste della Nebros SRLS, azienda a capo di un aggruppamento temporaneo di imprese, rappresentata dagli avvocati Gianfranco Passalacqua e Antonio Barbera. La Nebros ha presentato ricorso contro il Ministero della Difesa e Difesa Servizi Spa, rappresentata dagli avvocati Salvatore Dettori e Teresa Felicetti. È stato chiesto l'annullamento della determinazione di difesa Servizi Spa nella parte in cui ha disposto l'esclusione di Nebros dalla procedura di gara per l'affidamento del faro di Capodorlando e ha annullato la determina di aggiudicazione a favore della stessa. Il 18 novembre si entrerà pertanto nel merito di una vicenda piuttosto articolata, in cui si fronteggiano Nebros, Gestar Spa e il Ministero della Difesa. Dopo che la stazione appaltante ha escluso entrambe le società per motivi diversi, il Tar si è trovato a decidere se consentire alla stazione appaltante di procedere con una nuova gara. Le due società, ovviamente per profili diversi, hanno chiesto al Tar di sospendere la procedura e rinviare tutto al merito. Così hanno deciso ieri i giudici del Tar di Catania, per cui il prossimo 18 novembre sarà l'udienza nel corso della quale verranno dibattuti tutti i ricorsi per stabilire come procedere.